Ciao, buongiorno a tutti, io sono Filippa Lagreba, sono qui per darvi un appuntamento. L'appuntamento allora è per lunedì prossimo, il 21 gennaio, che comincia il programma Effetti Personali condotto da Francesca Senette. Perché lo sto dicendo? Allora perché nella prima puntata ho avuto l'occasione di essere ospite e portarvi, raccontare la mia città Stoccolma in Svezia, quindi vi aspetto per un viaggio a Stoccolma. Ciao!